Giulia, perché sei venuta qui? Sono venuta qui per il matrimonio. Sono una wedding planner, è il mio lavoro. Tu perché sei qui? Sono venuta con Sandro. Suo padre ha invitato tutti i suoi amici al matrimonio. Hai detto ai tuoi amici di noi due? No, non ho detto niente. Sono stata molto male quando sei andata via. Anch'io sono stata male. Questa situazione è difficile per me. Mi dispiace. Ho guardato queste foto molte volte. Che bei tempi. Ti ricordi questa foto? Ah sì, il giorno che abbiamo perso l'autobus. Sì, poi abbiamo camminato per ore sotto il sole. Ma siamo arrivati a casa sani e salvi. Sì, ma senza chiavi. Hai perso le chiavi. Ti ricordi? Oddio, è vero. Comunque, io ho aperto la porta. Ma hai rotto la maniglia. È solo un dettaglio. È stata una bella serata. Abbiamo riso tantissimo. Sì, ma abbiamo anche bevuto tantissimo. Siamo stati proprio bene insieme. È vero. Avete visto Sandro? Ho visto Sandro ieri sera. Perché? Ho guardato nella sua camera e non c'è. Ho guardato in bagno. E non c'è. Ho cercato dappertutto. Ragazzi, dov'è Sandro? Dov'è Sandro? Dov'è Sandro? Thanks for watching the Tutto Bene series. Make sure you subscribe to our channel by clicking right here. And if you're interested in Italian cultural events or learning to speak fluently, go to Lingapont.com. Lingapont.com